Il patto per le opere compensative Il patto per le opere compensative Il patto per il presidente Chiamparino che è un accordo del genere strettamente legato al futuro della grande infrastruttura Ora messo fortemente in discussione Importante sarà allora anche l'incontro tra gli imprenditori e il premier Conte del 5 dicembre Mi auguro che in quell'incontro il governo sciolga i nodi e dia il via libera Ad opere che sono già finanziate e che aspettano solo di partire, che nessuno le blocchi Di parere opposto la sindaca di Torino Chiara Appendino, ospite ieri sera a porta a porta da Bruno Vespa Se c'è la possibilità di bloccare l'opera senza un impatto, quindi con maggior beneficio rispetto ai costi Io credo che sia giusto bloccare l'opera perché ritengo che oggi quell'investimento potrebbe essere utilizzato per altro E oggi credo che le priorità siano altre Intanto l'attenzione è tutta per l'iniziativa di piazza Notav dell'8 dicembre Vi parteciperà anche una parte della sinistra con Sinistra Italiana con il consigliere Marco Grimaldi Le madamine in arancione invece pensano ad una contromanifestazione Come scrive Giovanna Giordano su Facebook per riaffermare il loro sì, vogliamo muoverci